Si rivola, non vi aspetterete mai dove, però ve lo faccio dire da una persona che viaggerà con me perché il suo passaporto ha una doppia nazionalità. Dove andiamo Emma? Stiamo andando a Danzica, a Władysławovo. Andiamo a un posto simile alla Dispoly ragazzi, Władysławovo. Neveca, ha le due, cioè 40% di probabilità di neve. Sarà un'esperienza diversa, per cui seguiteci, perché insieme scopriremo che cosa ci aspetta. Il clima da dentro l'aereo è già freddo, mamma mia. Bye bye, thank you. Thank you. Mamma mia. Mamma mia. Vedi, mi ne vische, ma non si vede. Thank you. Nice to meet you too. I'm Robby, good welcoming, I like it, let me see this. Oh my god, thank you. No problem. Yes. Roberto. Yeah. What's your name? My name is Hubert. Hubert? H-U-B. Nice to meet you, Hubert. Okay. I'm married here. No, vabbè, ragazzi. Cioè, io ho il giacchetto via nella... nella sacca. Ci saranno due gradi. Dio. Se ho avuto un po' di gare, qualche cosa l'ho fatta, ma... che ti vengono a prendere così... non mi era realmente mai successo, ragazzi. Porco giuda. Are we gonna ride with this? Yes, of course. Okay. Okay, Roberto, you will go with me, I'm going for the judge. Okay. And five minutes and we will go. No worries. Okay, no worries. I take care of the car. This bag's car... Is this your bag's? No. Still? Okay. Who is this bag? All right. Do you have a place for the legs? Yeah. This doesn't look like a normal surf trip. No. This time. It's my first time jumping in a Porsche. Can I close? Yes. Yes? Guys, you can take me and then you come back. What do you do? Come on, come on. Come on, I'm going to do everything. Ah, top! Topis! All right. All right. What are we are, guys? We are coming from the car. We are coming from the car. Oh, Vladislav. It's Vladislav. We are in Ladispo. All right, guys. Good. 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 What is it around? No. Well, it's fine. no vabbè c'è fa un freddo ma non c'è nessuno qual è la sensazione fa? no io voglio bello wild poi veramente brutto grazie a tutti grazie a tutti ci siamo ragazzi è il giorno della gara faccio una gara a parte il chemo che non la considero una gara è tipo una sopravvivenza qua ieri abbiamo fatto il briefing hit da 15 minuti peccato che ieri mi si è stoppata la copronna nella prima session guarda c'erano degli insight pazzeschi questi ragazzi hanno un cuore cioè noi pensiamo sempre che siamo che siamo quelli forti che si sbattono gli eroi questi sono i veri eroi ragazzi qua fa un freddo quando sei in acqua ti si gela tutto l'acqua stava 3 o 4 gradi ieri e fuori ce ne sta uno o due per cui abbastanza pesante comunque ci siamo sto bene guardavo la funziona la muta è caldissima fa il suo lavoro colazione andiamo al campo gara tagli guardavo la notte lakano no i died con un forte eh si ashterva lakano la Il colore di l'acqua può essere in Ladispoli, che è la mia casa La temperatura di l'acqua può essere in Danmark E la condizione di l'acqua sarà in Polonia No, siamo stocchi Se hai GTSI, se hai GTSI... Double up! Oh, spin! Era meglio, ieri o oggi? Beh, oggi Io dico ieri, mi dico ieri Questa è da soffrire oggi No, non ho mai visto Cos'orca La tecnica Mi piace 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 Cosa è il segretario del belt surf? Oh, il belt surf, il Bradlees Checchi carbon Oh mio Dio Sanno cosa è pronto Sanno cosa è pronto per Polonia È arrivato il momento ragazzi Mi prepara C'è la prima hit Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Passer da Szardinia Si, siamo in Sardinia Siamo in Sardinia No,現o in order Mi piace Si, in Sardinia In Sardinia Si, siamo in Sardinia Sardinia Ok, bello Quando è questo市llo? No... 3-ri anni 3-ri anni Eetera E sei di qui, anche? No, è in impanese. In impanese? Ok. Fino? Ciao! Hai visto l'Indonesia? Mi sembrava molto di Lorenzo. Si, è un buon ragazzo. Si. Un pochino. Cosa? Un pochino. Cosa? Non lo so. Non lo so. È così intenzionale. Tutti in inglese. 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 Allora. Estiriano. Sì. È un buon ragazzo. Il è diダ Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una meletta si riparte. L'unica cosa brutta è che non ci stanno le priori, quindi a un certo punto diventi uno stronzo oppure gli altri ti fottono. Non lo so, però divertente. Grazie a tutti. E' l'ultima onda, è bellissima. Bellissima velocità, spalan 3,60. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Woohoo!